Ci stiamo occupando nello sportello del cittadino del degrado della città vecchia e purtroppo anche nella città vecchia c'è una città vecchia di serie A considerata ed una città vecchia di serie B che viene appunto abbandonata. Infatti mentre eravamo qui per realizzare dei servizi un amico, un cittadino ci ha sottolineato questo fatto. Dice ma perché tutta la zona relativa a Piazza Castello viene curata e qui invece il lato di via Garibaldi viene trascurato? Ecco, deve guardare la telecamera. L'ho detto parecchie volte a quelli che fanno i consigli sopra i comuni, ho detto io, viene un magazzino mio di Piazza Garibaldi, c'è due lati di pettura di smalto bianco, quello solo da Leone, non lo facciamo neanche un baffo. Non è un mercantino, ma com'è non sapere mai che questa finestra qua, questa porta di un comune, si aggiusta le parete qua? Lei dice per migliorare le strutture dell'area del lungomare Garibaldi, dice io sono disponibile anche a mettere a disposizione la mia pittura pur di dare una rinfrescata. Ma non si può, non si può, io posso, ci devo dire che ho preso una scherone, che ho quattro volte che conosco tutti questi consiglieri, o queste pitture si può dire, no, quando facciamo l'assemblea lo devo dire, la mia stuporazione, avevo 80 anni che ho detto, c'è sempre per fare se me la pittura, stuporazione, ecco, perché noi parliamo di Tarantino, è diverso la cosa, è giusto, e ci stai più per fare. Vedete, poi mi dice anche a me che dicevo, non ti dimenticare quando facciamo l'assemblea, di conto sui, e di, che tardi ne diamo, ma tardi eravamo tutti là. Beh, questo mi sembra uno sfogo legittimo, sacrosanto di un cittadino, vedete, noi siamo con il popolo, siamo con la città, siamo con quelli che soffrono, questo è il vero problema di Taranto. Non ascoltare la voce di gente che ha sofferto, che ha vissuto e che non sta chiedendo niente, se non un piccolo miglioramento della città. Addirittura l'amico ha detto, vi metto io a disposizione la pittura, cosa deve fare più? Cosa deve fare più? Signori amministratori, il signore potrebbe essere un vostro padre, ascoltatelo. Grazie. 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 Grazie.